oddio vuoi andare a fare ammazzate greve? si si andiamo a fare ammazzate greve con la gente lo sai che sto sponsorizzato dalla disney ormai? hai ragione pure te grazie mille lucareti ed eugenius per la sub benvenuti nella litigia prenderai il bimbo di satana in casa sua mi dovete dire perché avete fatto la sub c'è un paio dei gatti ora c'è di dire perché hai fatto la sub firepower costa una cifra per la crona ah quello è un buon monitor è uno dei monitor più usati degli fps infatti è e-sports e-sports ready è più e-sports ready il tuo monitor di fornite sicuro quello è sicuro gioco io stanno dalle altre case eh si si io ludo qua veloce tanto stanno tutti dentro perché ah ma non c'è nessuno no stanno fatta tutti è pieno è pioggia ah eh adesso sono già serrati tutti allora io l'ho visto a serrare ora era per questo che ho bello sto pampa cazzo qua vedete che si sta sparando da me caseruccio grazie mille per la donazione vabbè lui faccio il nuovo meta doppio vampa si saluta un ragazzo eh mi ricordo fatto uno in un case ruccio gloria 98 grazie mille per la donazione comunque fra giocheremo insieme ce l'ho davanti ve lo provento che appena c'ho la possibilità Joe quanto problemi stai avendo? noh beh è abbastanza normale eh allora posso lootare l'altra cazzo non arrivo eh Marco cazzo mille per la donazione il problema è che hanno altri due davanti sto durando le nade io cazzo sto arrivando dai vado avanti a me ho lasciato una slupla che poi ti vai a prendere ho finito ok fatti vedi che non te servivo lo sapevo allora ah c'è il chanchino ok se no c'è una slupla di frontella che ho lasciato no 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 c'è il chugga e c'ho la pozzata 50 più caldo sto vuoi per caso usufruire di un lanciarazzi? mmm come vuoi ho di un power r potenziato uh il power r potenziato eh no non c'ho poi le cure vedete non posso prendere niente va bene perchè c'ho una pezzetta e un chugga a meno che tu non puoi portare uno dei due eh si posso lasciare uno dei due vai allora mi prendo la r quello potenziato che mi diverto segreta ecco dove? ah l'ho visto va di prendere da me che cosa mi ha sparato? eh marzo io ce l'ho davanti ma dietro la casa eh no mi servirebbe devo lasciare un cecchino ah ok perfetto allora ce l'ho davanti conto eccolo fatto bloccato valla a finire tu sei vita dove che sta? diritto sopra il tetto della casa mi sta tirando le canale dell'alto più sinistra bravo così marzo sull'alto sull'alto c'è l'alto dietro sta verso più su verso sud ce l'hai bella marzo pozzata 50 è qui vado a cercare delle cure io che e il ciak? me lo so tirato non ho delle cure così da portarmi dietro ah ok e c'è uno sull'uspetto nell'altra casa sempre legato va se prende la pozzata 50 io ho sentito devo prendere per quanto qua guarda devo prendere sto cecchino guarda prenderò ma prendo bro one shot a un hp marzo toccato oh cazzo ce l'ho davanti l'alto eh sì fatto sono altri dietro forse non voleva morire c'è la r dorato come la r dorato? eh sì c'è chi l'alto ah buono e come cazzo ti è uscito la r dorato? non lo so è la droga vai verso nord vai verso nord e te li prendi ho visto qui ho fermato delle gname l'allenamento lo potete vedere a inizio di ogni live quello che faccio più che un allenamento è un riscaldamento se vogliamo essere precisi andiamo anche in safe ma è il biscotto ma non costa niente ragazzi il gioco costa massimo 5 euro oh pozzette eh lascia il bene 5 euro sì io lo converto da 7 su 5 euro non meri che sì c'ho 5 bende mi importa qua guardami c'è la cassetta dove sei ah lascio il punto va così la vedo ah eccolo eccolo lo vedo è dietro la collina vuoi che gli sparo magari si ferma? oh tanto ormai smudro qua si si è fermato vai l'ho fermato tipo il bestiame l'ho fermato ah sono un paio di team uno si è preso un bello sciottino in bocca questo l'ho smirciato buttato due volte uno uno e... ah ma l'hanno finiti tutte e due madonna che cazzo sono questi stanno andando qui a lotare dove sto andando io eh senti io per fare il cattivone vi faccio la scala di satana indistruttibile ma let's go mi sparo un'altra persona però chiuso noccato fatto ok mancano gli altri che mi sparavano li vedo sono a 255 ah ok ah merda noccato ma ho preso anche lui no c'ero anch'io lo sta arrestando Gioca non ho i gol è andato è andato giù vado pusho io ma io mi do ce la dovrei fare eh eh dovrebbe essere non dico lo però l'ho gli ho preso 50 l'altro è notato l'aveva rianimato ok vabbè vabbè vado a prendermi il lanciarazzi dorato qua che c'è lanciarazzi dorato qua che c'è lanciarazzi dorato c'è un tac blu oh buono come airbred pensavo da materiali eh lì non si sale eh così si almeno ai cazzi eh no però non ho usato tantissimo davanti a noi davanti a noi l'ho visto marzo faccio una cosa è passato vicino questo eh ma solo più così la roba nato usaio eh per un caldo ma non ce l'ho sono io una coltetta a tre mamma mia non muore marzo ce ne sta qua sotto uno mi sta lo riesce a fare questo qua sotto dov'è che sta? sotto di me si è chiuso fatto l'altro è dietro qua sotto di me ce l'ho davanti ok fatto ma c'è un tempo a stare lì cioè eh c'era questo qua mi sta dando abbastanza noia ok c'ho pure le bozzette buone ci sono le bozzette qua marzo eh e un mano di textra ok allora qua non me lo prendo ti vengo a lasciare queste tieni vorrei lasciarle ok grazie oh scusami te l'ho preso Armando Nodelli grazie mille per per la donazione saluto bella pure a power bella brother saluta power te le lascio te due ok va giù va giù va giù ma lo pio con lo sotto l'hai lotato tu? eh si ok guardate siamo proprio infilati in questo game eh visto file effettivamente lo fai tanto altre pozzette le prendo eh mi sa che da stare non c'è nessuno non c'è nessuno ce l'avremo dietro a nord Imo direi più sud est dice addirittura ha sens proprio ecco non li abbiamo capito sono tutto due dove? ah dall'altro lato oh 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 sono sotto di me sta arrivando eh io pensavo dall'altro lato non lo resti l'amico è un babbo eh puoi fargli quello che ti pare è armato come una revolver eh faccio sempre guarda 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 ehi sta dio serve una mano? dove che sta giù? ah eccolo oh è un babbo è un babbo merda questo era vicino no no fa ammattalo non fa torsi size non ha prima o poi uscirà che cazzo freaky vesto grazie mille ti saluta anche freaky mo sta fai tanto voi ti saluta ah l'hai buffo ah 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 ah